In un'altra cazzata che noi ce la bevemo col cazzo e poi in Paris tornerò nei sciampi del ruolo del cazzo e dopo tutta la settimana dei Manfrini e prima Diagonale, poi Tari, poi Lodito, poi Malagò, un brecco dei musillanimi. E veramente perché voi siete bestie, voi siete bestie di Satana. Voi siete bestie di Satana perché voi avete la cattiveria in corpo, perché siete gente frustrata, gente che fa schifo, gente lesionata nella vita. Gente che magari è stato toto poco perché valete poco e continuate a fare poco. Cattivi? De merda. Fortuna che c'è gente intelligente, gente che non casca di arraste provocazioni. Ve ne dovete andare a far culo perché il sottoscritto può essere pure stronzo. Mamma infane, a capitale Erci, a duriti, a maledetti.